ok raga ora vi faccio vedere quanto forte può essere il mio telefono con un telefono di 5 anni ok ora apriamo mariocar ds uno dei giochi 3d abbastanza pesanti diciamo come grafica e proviamo proviamolo già cosi proviamolo già cosi tipo vediamo come lo re c'è qualche problema forse opzioni video non ho messo nulla boh e allora facciamo frame script normale quindi quattro frame script manual file quattro frame script salvo ok ora lo salvo lo salvo un po' però facciamo facciamo scale frame script di 3 si dai così va benissimo perfetto ok la grafica normale che può reggere il mio il mio telefono infatti vedete vedete è abbastanza fluido proverò a giochicchiarci un po' poi proviamo con la moneta 3d oh la moneta 3d madonna sarà un incubo vabbè metto yoshi falls come test facciamo test yoshi falls eeeh si il gioco è fluido o quasi però si vabbè non mi ricordavo così tanto eeeh è veloce troppo veloce cazzo è troppo veloce fermo 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 aiuto è veloce è veloce non ho messo nessuno a parte quello di tutto sblocca però vabbè non credo di aver messo nessun cheat vabbè si avete capito cambiamo il personaggio andiamo su cambia personaggio andiamo indietro e ora metterò la qualità 3d quindi vado su opzioni video si poi questo ahhh non si può tipo framescript value 3 oh cosa what the fuck lo legge bene lo legge bene questa cosa questa cosa è strana metto l'ufomobile perchè è la macchina più bella di Mario Kart DS tutti lo sanno dopo il carro armato eeeh vabbè metto yoshi falls di nuovo bene possiamo andare ok sembra tutto normale ora faccio un giro completo però però è una bella grafica diciamocelo è strano che riesca a trattenere questo questo infatti facevo tipo madonna i fps sono in alto a destra le ho messi perchè le metto sempre esatto le metto sempre però si avete capito che è bello ora si è velocizzato non dovevo farlo vabbè adesso provo con no spero adesso provo gran premio 50 ma boh avevo visto qualche gisci grafico pure no no ok bene vediamo vediamo facciamo tipo una piccola partitina con l'ufomobile si bene ora facciamo no ahhh ahhh ooooo meno male che si può saltare re no no non riesce a reggerlo quindi si dai speriamo che il mio telefono non non diventi fumo intanto non faccia fumo no non lo sta facendo beh dai è fluido quanto dovrebbe esserlo diciamocelo dovrei fare tipo no 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 bravo 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 telefono metti locomo eh si locomobile poi metti vabbè vabbè un po' a caso tipo card cpu possiamo fare così fine bene mettiamo una una corsa pesante tipo airship fortress ahhhh capisco io capisco perché è pesante ci sono più ci sono molti modelli 3d tipo questo i personaggi delle di personaggi tipo luigi bowser 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 è pesante anche cong e tipo e la corsa è lunga abbastanza lunga però la nave però la nave riesce a riesce a reggerlo ma non così tanto però si dai è giocabile è giocabile è giocabile non proprio all'inizio ma è giocabile ma è giocabile tipo appena è iniziata la corsa inizia ad essere giocabile poi più semini più semini e le persone più veloce diventi infatti hanno freddato una banana vabbè avete capito inizio inizio inizio